Ciao a tutti, nuovo tutorial per una nail art estiva e veramente super veloce da realizzare Iniziamo subito, ho applicato ovviamente la base su tutte le unghie L'arancione invece è un lasting color effetto gel di Pupa, lo specifico il numero 84 Lo smalto glitterato è sempre di Pupa, di una vecchia collezione Era l'820 ma ora non c'è più in commercio, se non erro Il bianco è sempre effetto gel numero 72 Adesso ho dato due passate di tutti, tranne che del bianco che era ancora una passata Prendo uno smalto dorato, le poggio una goccia sia del dorato che dell'arancione sopra un pezzettino di carta Stendo una seconda passata abbondante del bianco e con il dotter vado ad applicare prima una goccia Con lo smalto ancora bagnato ovviamente, una goccia del dorato e due gocce di quello lì arancione Con un pennello dalla punta sottile, striscio nel mezzo e si formeranno queste gocce che man mano continueranno ad espandersi nello smalto ancora fresco Aspetto che lo smalto bianco sia asciutto e con un dotter dalla punta fine vado a bordare tutta quanta l'unghia con lo smalto dorato E praticamente l'anel art è terminata, quindi molto apparescente ma veramente facilissima da realizzare Applico il top coat, lo stando prima sulle altre unghie e per ultima quella lì con i puntini per evitare che si rovini E niente, con questo è tutto, io spero tanto che questa anel art vi sia piaciuta Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!